Musica Salve a tutti ragazzi E mister il silenziato Un cos'è la piccola di Batman Arca 3 3 La rete sensori era in avaria Scansione in corso Vabbè ragazzi lui è Batman E lui è fatto così Meglio tirare scherzi Che faccia Devi metterti a rieta grandi Non riesco a parlare Ah finalmente Ma allora parlava di me Va bene Dobbiamo affrettarci Casomai il vero Hawkman si faccia via Oh l'abbiamo già sistemato Ma come si dice L'uccello in gabbia Che carino Erano esatti giustiziere Lo so Giustiziere mascherato Abbiamo perso il collegamento Pare che il problema sia altrove Non si può riparare da qui Lanterna verde mi servirà il tuo aiuto Bene Va bene Dobbiamo riparare Allora ragazzi adesso iniziamo il vero livello Lo so che sono già dicendo un sacco di volte però È vero Allora io sono lanterna verde Io sono mascher melante Tu sei lanterna verde al Jordan Sì E qui c'è un tuo simbolo Mi sa che pure tu scansioni Ficata ragazzi Con una vera forma di marziano Ok Andiamo a scansionare Il tuo laser Ok ragazzi abbiamo fatto questa rompita così per facile Guarda che brutta statua Vero Ok dobbiamo girarle E lì dobbiamo Ragazzi non c'è ancora visto Wonder Woman qua È vero Al massimo solo Batman e Robin per ora E nemmeno Superman Tu mi serve un rampino compa Vieni qua Arrivo La statua di Batman è pronta Arrivo Allora Il nome è Marshallman Hunter Gliel'ha dato Cyborg Gliel'ha dato Cyborg Sì E questa come si deve fare Vediamo un momento Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua Allora Allora E adesso Possiamo accedere al livello Sì E' proprio Villa Wayne Sopra la Batcaverna Vieni qua ragazzi Vieni qua Attenzione Uso non autorizzato Ho capito che il livello è Ok scusi Ci potrà servire assistenza Membri della Lega della Giustizia Membri della Lega della Giustizia Ecco Cyborg Questa è una spaziale Vieni qua Ecco Flash Membri della Lega della Giustizia Ed ecco Superman Wonder Woman Membri della Lega della Giustizia No Andrà bene il conto Grazie Non ci riposiamo mai Oh wow Un bel po' di criminali C'è un allarme intruso Giustiziere Mascherato Fai prima a chiamarmi solo Batman Verremo ad aiutarvi Il protocollo di sicurezza dice Che ho chiuso il teletrasporto Per fermarli Già Lo so Troveremo un altro mezzo Bene quindi si va nello spazio Bene Penso che non c'erano il patraggio Credo che il patraggio non sia pronto al decollo signore Perché si succede sempre così quando abbiamo fretta Dobbiamo riparare il tarazzo se vogliamo salvare tutti gli altri Altro aiuto transdimensionale Non me ne frega di quello che dice sta cosa Io le odio le guide Anch'io Deve essere il modo per liberarci di quel vetro Rompere un vetro? Non importa sfortuna Quelli sono gli specchi Gli specchi sono fatti di vetro Che diavolo dici Robby? Sono fatti di vetro ma Il vetro Dici gli specchi Vero Vai Ecco qua Entra in azione il mio costume tecnologico Vediamo se mi apre il simbolo Eccolo Ok Ok Allora penso io Tu rimani con quel costume Ok Si Allontanati Bene ci sono Eccolo Eccolo Oh che succede? Eccolo Eccolo Io sto cliccando Ecco C'è stato un piccolo problema tecnico Si esatto Allora Eccolo Eccolo Oh il costume sonico Con quel costume va con un po' spaccare il vetro E' richiamare le pistaglie Vero No ma quella cosa che richiamare le pistaglie E' bellissimo ragazzi Poi vedrete Poi vedrete Poi vedrete Il disturbatore sonar distruggerà quel vetro Avevo appena pulito quel vetro signore Ottimo Non pegano i ragazzi Roby Si Ti cuore la scuola Per i ragazzi così richiami i pistagli Mi risparmio sonar Ecco ti faccio questo Ecco Devo andare lì E attivare il ponte per farti passare Batman Ecco fatto Brute notizie Il ragazzo è stato detto Costi E come facciamo a portarlo fino al distributore Robin Abbiamo il carburante Come collegarlo al rato Bene Ora dobbiamo fare Il carico di benzina Riprendi tutto Così Anche qui Devi Puoi fare Un mini kit Ok Ok 35 E basta Lo metti Ok Prendiamo il caviola Se si riesce Presa Ok Vediamolo un po' Ecco Allora Oh il costume astronico Con quel costume Batman può spaccare il vetro E richiamare i pipistalli Vero No ma quella cosa che richiamare i pipistalli è bellissimo ragazzi Poi vedrete Poi vedrete Poi vedrete Il disturbatore sonar distruggerà quel vetro Avevo appena pulito quel vetro signore Ottimo Non pensano ragazzi Robi Sì Il tuo costume Bene ragazzi così richiamare i pipistalli Il squadro sonar Ecco ti faccio questo Ecco Devo andare lì E attivare il ponte per farti passare Batman Ecco fatto Brute notizie E come facciamo a portarlo fino al distributore Robin abbiamo il carburante Bene ora dobbiamo fare il carico di benzina Riprendi tutto così Anche qui Devi fare Il mini kit Ok 35 e basta Lo metti Ok Prima Prima ok 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 eh ok buongiorno ormò se lo devo ripare perchè mi affreca un cavolo io la vado e domani lo facciamo giallini capito? se lo facciamo scegliamo se lo devo rifare dopo cerchiamo il giallo se lo vado ok se no continuiamo hm vai c'è che mi diavolo non c'è troppo buio non si vede niente tranquillo io non sono sempre pupo come tu questo sì che è forte usa il rover per trovare la tutta spaziale perché la tutta spaziale dovrebbe essere qui non c'è la spazio nella vita di ok e perché usi la tutta spaziale c'è una buona vera dammela ora posso usare il jetpack dai no meno male c'è già carico non fa niente sto già carico il mio laser può tagliare un sacco ma da quel pannello d'oro adesso ti faccio passare non c'è 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 ma quando avrai un laser allora deciderai tu la forma da tagliare ti serve il codice d'accesso dovremo eseguire l'override del bascomputer bene ora ora c'è una nuova si tu sai che non è basso ma per tanto io avevo la demo di qua questa è la demo si che schifo di demo questo livello perchè vuole mettere un protocollo di salvataggio però devono mettere i protocolli di salvataggio grazie da finiti per team team dai adesso no ma se ciao addio vai vai ok vittoria eh vittoria, metti il costume normale ok muovi muovi non tenere Alfred, lo saremo e ti porteremo anche qualche bello che ho avuto da lucidare urra me ne frega niente una rovescia, terminato decogliate lanterna verde settore 2814, terrò a bada gli intrusi fino all'arrivo dei rinforzi la questione dell'oggetto alieno non può attendere, scopri tutto ciò che puoi e riferiscimelo per favore, chiamami a salve Marshamman Hunter arrenditi ora va bene, ma prima voglio presentarti tutti gli altri questo qui è Firefly l'abbiamo portato con noi perché sappiamo che ami il fuoco ma il fuoco è il mio unico punto debole oh no no sarebbe meglio che tu la smettessi di giocare e mi aiutassi a impadronirmi del computer amo i videogiochi prendi accesso consentito hai tutti i capelli dritti beh sono solo le sopracciglia ti prego ti prego come per il dentro veicolo in arrivo piattaforma inferiore sganciata oh ragazzi ce l'abbiamo fatto allora allora ragazzi c'è stato un piccolo un piccolo un piccolo tecnico ragazzi però la quarta volta è andata molto bene perché come ci ha insegnato Batman non bisogna mai arrenderci ne ho fatto mai fatto metterò un cappone cia maniera l'avevo detto io e non ci siamo giocati ragazzi mi sa che c'è una volta divertente ah 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 che buona oggi ragazzi io mi devo io mi levo bene a quanto pare io c'ho la robin jet e tu c'hai il batter jet perfetto la nostra prima battaglia mi senti bene è vero signori benissimo come me lo ricordavo ragazzi il fuoco incrociato è sempre bellissimo sicuramente ciao che sia tra tutti i cattivi l'idioto è anche l'uctor sui ragazzi a chi piace a l'uctor che saperebbe questo che sta guardando questo video ragazzi ma non piace fosse abbastanza chiaro non so perché rendiamo le cose più interessanti ma una domanda dove sono gli altri dall'aggiatto dobbiamo sparare alle sentinelle di joker non le vedo non le vedo ma si le vedo molto bene e da me ma fallo tu mi fa anche il missile che cosa preso è così è così è così è così è fuori dalle scatole forse quella è il videogioco di gioco di gioco di gioco mi fa anche tutte cose ragazzi mi fa anche tutte cose stupide che fanno ridere a me fa ridere il gioco sinceramente di gioco mi fa anche bisogna partirlo ora come dice che lo tiro con i missili ah ce l'ho io il missile buonanotte ehm ah fin ce l'ho ci serve un missile le l'ho sparato io e ce ne comunque una questo dov'è dov'è do'è dammi la bellisce dov'è ehm lo che so Stai sparando Baccati questo Il videogame Io so già il missile Anche io Oh yeah Non si fa Bene Velocità Sonica Ehi Gioconiccio Beccati questo Io ho l'ultimo missile Bene spara in faccia Ok Spara Dobbiamo prima trovarlo Non è tanto difficile se ci pensi bene E qui da me E ce l'ho anche io Ce l'ho anche io Sparo io No ce l'ho anche io Dovrò proprio usare una delle mie super bombe bonus Fatti Bombe bonus Ah livello bonus Bombe bonus Oh Charlie Queen sulla bomba Ci penso io No Robin Ma c'è una Trappola Livissimi Certo Oh oh Robin Stacco di farmi sparare contro Pia ragazzi Sono meraviglia Oh oh Grazie Prego Grazie Hai altri trucchetti? No 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 Non diceva una maniera ricogliosa Ce ne hai messo di tempo Scusa Il cameriere ha tardato a portare il conto Hai mangiato tanto eh Tu intanto cerca un modo per entrare Ci servirà un getto più grande Flash però non dovrebbe sopravvivere nello spazio ragazzi Non c'è una tuta In un film a leggo Flash c'è tipo una tuta spaziale Beh quindi ma dovremmo essere quelli Sì ragazzi io voglio essere bata Io sono il tuo San numero uno Cyborg Che Ah Certo che a terraggio morbido Ah Più che è morbido Che c'è qua Da ragazzi Sandiamo Perché se no Non vogliamo più fare Quella sera di prima Vero 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 Una calamita Diamo un'occhiata in giro Potrei potenziare il mio costume Da un scarico Da vai Di qui Laser Ci penso io Va bene Che cos'è? Costume per la vita Prendilo Ah E' per me Oh Va bene Fuori Levate tu Questa è la calamita Ecco qua Tranquillo Ora ci penso Come mi hai chiamato Aia Questo si che fa ridere Bene Io vado su Che fan Oh Che fan Non posso volare Però posso fare questo Sì L'ha tutti i cannoni L'ha distrutta E anch'io Oh Oh Brutta Corretta Ehi Costrua bomba Ci penso io Ce l'abbiamo tutte e due Non posso cambiarmi io Ok Perché tu mi respiri Nell'uffazio Uffazio Ci penso io Va bene Ehm Vai Aspetta Benzio io Ehm Vai Ehm Un sbaglio E muori per favore Una è andata C'è un'altra Spara Ehm Non mi hai detto Spara Fatto E' qui Praticamente Esplode Esplode Ma anche sullo scudo Spara Adesso Bravo Ehi Tu Lascia stare Il mio Amico Oh Ce n'è ancora una Arrivo 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 Guarda Mio Bravo No Ehm Fregata Bene Andiamo Oh Torre Cavattere Devo dire che è Batman E' cyborg C'è un'ottima squadra E' vero Perché c'hanno praticamente gli stessi poteri Vabbè Quattro ma non ha poteri Ehi Però L'estessa Abilità Abilità Ti sto salvando le chiappe E' vero Direi che sono quasi la stessa persone Ehi vabbè Non esagerare nemmeno Ah Ehm Oh Sentinello Ma che cavolo Certo la tena come al solito è troppo bene questa cosa E' vero Ah No no Super me no 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 Super me Super me che fai Super me ti odio Non fatevi Oh Veno male E' solo uno scherzo Non esplode veramente Allora Tu pensi le ventiera We let's bot Ma dai però Tutti i quanti con bot Bene C'è una ventiera ancora Ehm Ok Eh bella domanda Eh bella domanda Ancora Ti ricordi La demo si fermava fino a prima Ti ho detto che mi ferma Sì La demo Non credo Stiamo sempre nello spazio Buona nostra voida Sì Questo è un caricatore per entrambi Che cosa Cosa Quello Ah quella E' Miss Maynard Non puoi prenderla Eh Non puoi prenderla C'è un vetro Ah Sì Siamo mitici No siamo Non ricordo ma Pure sai dove c'è il costume Volante Così posso Esatto Te l'ho detto E' vero Scusate bregna che ragazzi Noi non lo abbiamo Ok Si deve sbloccare Tu pensa al resto Io penso ai palloncini Ma vai i palloncini Scalamità A che serve? Eh Sì arrivo Fai jumper Il tuo laser E va Allora Ah Mori Non mi importa Oh scusate ragazzi Se metto ste guide Perché Io con le guide Te odio Oh Oh L'identiera Oh È morta La dentiera è mortale Ragazzi Bomba Bomba Ci penso io Arrivo Anche se ce n'hai anche tu il costume a bomba Ci penso io Io faccio la calamità E' bang Cosa da costruire? E' plastica mi pare qua Flash Posso farlo io? Si No C'è una cosa è buona Dovevo trovare un modo Per farlo venire qui Perché Flash non vola Ah ah No qual è di plastic Ma è la sciosta Ok Grazie Prego Arrivo Finalmente siamo riusciti ad entrare Finalmente Finalmente Signori Questo livello è finito Finalmente Perché Abbiamo avuto molti problemi tecnici Che voi non avete idea ragazzi Allora E beh ragazzi Questo episodio Posso essere tutto Un certo Aspetta Vi da un po' Che abbiamo sbloccato Abbiamo sbloccato Cyborg Flash E basta E basta Va bene Ok ragazzi Per questo episodio Posso essere tutto Un certo Per i jumpers E mister Il silenzioso Mettete tanti like Al video E scrivetevi E al commento ragazzi E iscrivetevi I vostri canali Ciao Ciao Ciao